In collaborazione con Studio Q Consulenze Finanziarie Con Antonello Cattani parliamo della nuova emissione del BTP Valore. Nelle scorse settimane è partita la campagna pubblicitaria e l'emissione del nuovo BTP Valore con scadenza 2030. Ci potrebbe illustrare le caratteristiche di questo strumento? Sì, diciamo che questa ultima emissione ha ricalcato le caratteristiche di quelle precedenti, ovvero la durata del BTP è 6 anni, la cedola è trimestrale, quindi questa è un po' la novità introdotta dalle ultime emissioni e il meccanismo è detto step up, ovvero crescente. Infatti i primi 3 anni la cedola è del 3,35% e gli ultimi 3 anni del 3,90%. In più viene riconosciuto il bonus fedeltà, come nelle precedenti emissioni, nello 0,80% per tutti i 6 anni. Su questi rendimenti dobbiamo togliere la tassazione che attualmente è del 12,50% per i titoli di stavo. Quindi diciamo che le caratteristiche sono simili alle precedenti edizioni. Come hanno risposto i risparmiatori a questa nuova emissione e quanto rende questo titolo rispetto ad altri equivalenti? Diciamo che le richieste sono state sensibilmente inferiori, si parla di 11 miliardi più o meno di richieste contro i 18 dell'ultima emissione precedente di aprile, ovvero un meno 38% circa. Quindi la richiesta è stata sensibilmente inferiore, le motivazioni possono essere diverse, quindi la durata sicuramente è impegnativa, perché 6 anni comunque non sono pochi, può essere anche una spiegazione comunque il fatto che l'Italia, non dimentichiamocelo, ha il secondo debito PIL, cioè il peggiore debito PIL in Europa dopo la Grecia. Recentemente c'è stato anche qualche richiamo dei vari organismi di Fondo Monetario Internazionale su questa situazione con l'invito a sistemarlo. Per quanto riguarda il rendimento sconfrontato comunque con altri titoli di Stato, non dimentichiamoci che anche se è una nuova emissione, non è che il rendimento possa essere completamente diverso, diciamo che è qualcosa in più, quindi diciamo che se noi prendiamo il rendimento medio, nell'ipotesi di tenerlo fino a scadenza, che è un 3,70% complessivo, con un BTP già esistente a parità di scadenza, anche con cellule più basse ma con prezzi inferiori, diciamo che la differenza va dal 3,70 al 3,50, quindi non è una differenza sostanziale. A favore del BTP valore possiamo dire che comunque in fase di sottoscrizione non sono previste commissioni di addebito, mentre invece se si acquista un BTP sul mercato dipende appunto dalle condizioni che riusciamo a paturire con la nostra banca, quindi queste sono un po' le differenze. Cattani, quali sono invece i rischi che un risparmiatore dovrebbe considerare? Beh, a parte il discorso del rischio Italia, tra virgolette, quindi debito PIL elevato, è anche della possibilità che in futuro, diciamo, gli spread si possono allargare con gli altri Stati e anche non dimentichiamo l'inflazione, quindi se guardiamo in questa tabella l'inflazione media degli ultimi tre anni a fine 2023, quindi consideriamo gli anni interi, era oltre il 4%, quindi con un rendimento del 3,70 all'ordo, diciamo che l'inflazione in realtà non è coperta. È vero che l'inflazione è prevista nei prossimi mesi, bar anni, in calo, però come dicevamo prima, sei anni sono tanti e non è escluso che nell'arco di sei anni inizialmente l'inflazione può calare, ma se poi dovesse aumentare il rischio è che con questo rendimento non si tenga il passo dell'inflazione. Quindi va sempre considerato lo strumento, diciamo, all'interno di una corretta pianificazione, quindi non dimenticando le caratteristiche, ovvero la durata, quindi che il rendimento è sempre nell'ipotesi che noi lo teniamo fino a scadenza, perché qualora invece le tasse dovessero aumentare il prezzo potrebbe anche andare sotto il prezzo di emissioni, quindi portare anche potenzialmente a delle perdite e quindi va sempre considerato in una corretta pianificazione finanziaria.